Un momento, un momento signore, un momento. Ingegner Riva, è stata descritta una realtà paradisiaca, ma non sembra proprio così, visti tanti morti di tumori che ci sono a Taranto. Vede il dibattito, non posso parlare, viene il dibattito sui tumori e la sua opinione è completamente... Allora sono false le voci di morti di tumori. Ah ecco, ce le siamo inventate. Ve le siete inventate. Ingegnere mi dia il microfono, dottore mi dia il microfono, io sono libero di parlare democraticamente, filmi tutti, mi dia il microfono, voglio il microfono subito, mi dia il microfono. Democraticamente e civilmente, ho detto che a Taranto ci sono morti per tumore, si mette da... Dottor Archina mi faccia parlare. Sto chiedendo solamente civilmente e democraticamente perché accade questo. È stata descritta una realtà paradisiaca, ne prendo atto, però ci sono tante situazioni insolute. Vedi per esempio la questione del benzoapirine. C'è stato un incremento dell'1,3% di nanogrammi al metro cubo. Lei è un esperto. No, non sono un esperto, sono uno che ci cerca di... Prego. Mi lasci rispondere. Prego, prego. Scusi, lei ha parlato? Prego, prego. L'ho interrotto? Prego, faccio. E adesso rispondo io. Vedi, lei è un grande esperto di mezzo, pirene, di cose. Io purtroppo non sono mister belvedere che sa partutto, però mi avvalgo di esperti che possono rispondere a lei.